Anche se i dati non sono ancora ufficiali, sono già più di 200 le multe fatte ad automobilisti che non rinunciano a rispondere al telefono mentre guidano, senza contare la scrittura di sms oppure posto i social. I numeri arrivano dall'attività della Polizia Locale di Cesenatico nel primo semestre dell'anno. 220 le violazioni direttamente contestate ai conducenti relative all'uso del cellulare alla guida. Di queste 184 sono state accertate con un servizio mirato, spiegano svolto in divise con autocivetta, mentre le restanti 36 violazioni sono state rilevate durante il normale controllo di routine del territorio. Un progetto che ha dato ottimi risultati se si pensa che ormai è acclarato che la maggioranza degli incidenti oggi avvengono proprio per la distrazione dei guidatori intenti a maneggiare in maniera dissennata smartphone e simili. A questi dati poi vanno aggiunte 59 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e altre 28 multe per la circolazione di veicoli sprovvisti della prescritta copertura assicurativa. Riguardo invece il controllo della velocità dei mezzi svolto con apposito strumento delle laser, sempre da gennaio a giugno, nei 58 servizi di appostamento con lo strumento di rilevazione elettronica della velocità, sono stati sanzionati 45 utenti della strada attraverso la contestazione immediata ai conducenti per aver violato i limiti di velocità imposti sulle strade comunale di Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli interpreta questi primi dati come un segnale di continuità sul fronte della sicurezza stradale che ha messo in campo, sottolinea, i velo ok, il telelaser, poi i servizi mirati per sanzionare i comportamenti scorretti alla guida.